Come era immaginabile, sui conti di Modica è cominciato il gioco dello scaricabarile. Con una lunga nota, i capigruppo di maggioranza del Consiglio Comunale di Modica parlano delle relazioni della Corte dei Conti attribuendo la responsabilità ai ritardi dei revisori. La Corte, scrivono i consiglieri di maggioranza che sostengono l'Aggiunta Abate, ha rilevato la mancata verifica sulla situazione finanziaria per il non-invio delle relazioni da parte dei revisori che, essendo la longa manus della Corte dei Conti, deve rappresentare i risultati conseguiti dall'ente attraverso un monitoraggio le cui relazioni devono essere presentate il 15 gennaio e il 15 luglio. Per la maggioranza, le accuse avanzate dall'opposizione all'Amministrazione Abate sono strumentali ed offensive e, per bocca del Presidente della Commissione Bilancio Gerratana, fanno sapere che la nuova rimodulazione del piano di riequilibrio che sarà approvata domani in Consiglio consentirà, tra le altre cose, di spalmare il disavanzo in 30 anni anziché in 10, con un maggiore respiro finanziario dell'ente. La maggioranza, dunque, difende Abate e Bacchette Revisori dei Conti, ma nell'analisi che fanno qualcosa non torna. Se è vero, infatti, che con delibera numero 100 del 2017 la Corte dei Conti se la prende con i revisori è anche vero e molto più grave quanto scritto è relazionato dalla sezione di controllo nella delibera numero 98 attraverso cui la Corte bacchetta pesantemente l'Amministrazione Comunale. Quando la Corte dei Conti parla di gravi irregolarità contabili e di anomalie gestionali quali ricorso ad anticipazione di liquidità, impegni di spese in esercizio e gestione provvisoria a ritardo dell'approvazione del rendiconto 2014 e nell'espretamento del riaccertamento straordinario dei residui, non si riferisce certo al lavoro svolto dai revisori dei conti. Quando la Corte parla del prelievo degli stipendi per le posizioni organizzative dal bilancio anziché dal fondo salario accessorio come disposto per legge, non si riferisce di certo al collegio dei revisori. E infine, ma si potrebbe continuare ancora e a lungo, quando la Corte dei Conti parla di intollerabile inerzia, di continui ritardi, di opacità e di incapacità di affrontare numerosi profili di grave irregolarità e criticità, non si riferisce di certo ai revisori dei conti, ma individuo responsabile e ben definito nell'Amministrazione Comunale. Il piano di riequilibrio domani sarà certamente approvato, ma purtroppo per Modica non è detto che questo salverà lente da tracollo finanziario e non solo. Si fanno sempre più insistenti le voci della possibilità di un dissesto guidato dettato dalla Procura della Repubblica, che, lo ricordiamo, ha ricevuto l'incartamento come ordinato dalla Corte dei Conti per verificare eventuali responsabilità di natura penale. Tutto ciò fa presupporre ad un avvio delle indagini da parte della Magistratura e non si esclude quindi che la situazione possa anche avere una sua evoluzione con un approfondimento da parte della Procura che potrebbe cominciare a sentire diretti interessati di questa vicenda che appare essere solo all'inizio.